Comunicare per convincere anche con il non detto, come acquisire una maggiore autocontrollo extraverbale per evitare inconsapevoli fughe di informazioni ed incongruenze, come conferire maggiore efficacia persuasiva alla propria voce. Sono i temi del workshop organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria Pescara insieme ai colleghi di Chieti e Teramo in collaborazione con Performance Strategies ed animato dal professor Felix Bilecce. E dalle prime parole proprio del professor Felix Bilecce della Performance Strategies si evidenzia proprio che oggi soprattutto noi imprenditori dobbiamo essere ben attenti ad affilare le armi per affrontare i mercati così difficili partendo proprio dalla nostra capacità di relazionarci con gli altri, di comunicare. Io dico sempre, poi un mio obiettivo è sempre quello di far comprendere agli imprenditori che oggi devono comunicare soprattutto ad altri imprenditori come insieme essere più competitivi sul mercato ma certamente poi nei confronti dei collaboratori, dei partner, dei fornitori non si può prescindere dalla capacità di convincere in senso di vincere insieme ecco sul mercato e sicuramente anche sapere ascoltare perché noi troppo spesso siamo focalizzati sul dire ma anche poco dall'ascoltare gli altri. Si aspettava questa partecipazione al seminario di oggi? Effettivamente mi rende felice perché ritengo che vuol dire che gli imprenditori hanno compreso che è arrivato il momento di affilare le armi, è arrivato il momento di realizzare quella che si chiama formazione continua che significa poi anche selezionare dei momenti come questi di incontro e confronto produttivi per tutti.